John buongiorno a tutti questa mattina mi sono svegliato ho fatto la mia consueta colazione a base di pane burro e una bellissima spruzzata di rancore preso dalla sera precedente non sono per niente contento dei turni fra settimali perché ogni volta prendiamo prendiamo le peggio sconfitte della nostra storia e io questa settimana non mi sento di sgridare la mia squadra perché loro hanno fatto il loro dovere i giocatori che ho messo in campo sono andati avanti con la voglia di giocare a parte qualcuno e tra poco lo vedremo giocavamo contro l'ultima in classifica la squadra di proprio lui di slingemi però volevo la vittoria per chiudere bene l'anno e invece no ma andiamo con i voti partiamo con un bellissimo voto che io credo che sia stato questo a farci perdere e vedremo dopo perché infatti cesni e ovviamente abbiamo scelto di mettere in campo la juve contro la fiorentina pensando che non subisse gol ne fa 3 la juve ne segna 0 vince 3 a 0 la fiorentina in casa della juve che comunque è meglio di quella della fiorentina e cesni prende 3 bravo cesni bravissimo bagnez inizialmente era dato a violare ma non ha schierato fonseca e io gli tirerei le ciabatte fonseca a fonseca entra al 65esimo prende 6 e tale rimane il voto a fine partita 6 di bagnez ma aspettavo qualcosa in più però dai bagnez sinceramente meglio un 6 che un 5 5 e mezzo ma andiamo avanti della roma avevamo anche mancini che la scorsa giornata me l'ho lamentato aveva preso 5 si riscatta torna si riscatta prende 6 e mezzo ma soprattutto segna il gol del 3 a 2 ed è per la roma che gli fa vincere la partita quindi fa gol prende giallo e gol vittoria totale 9 e mezzo bene 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 sono contento mancini che finalmente ci abbia dato una vittoria perché l'abbiamo preso per questo ma andiamo avanti teo ernandez signori io devo fare una statua a quest'uomo devo fare una statua a quest'uomo teo ernandez mi salva il fantacalcio ogni dannata volta anche se stavolta non è servito ieri però all'ultimo minuto ci ho creduto è stato il momento alla fine sul finale delle partite in cui ho più creduto in un possibile pareggio di quella partita teo ernandez in una partita in cui stava prendendo 6 l'ho monitorato tutta la partita 6 ha preso un giallo 5 e mezzo disperazione all'ultimo secondo segna il gol vittoria per il milan contro la lazio 3 a 2 risultato finale anche lì 7 e mezzo di teo ernandez gol vittoria e gol totale 10 e mezzo freuler l'atalanta si fa rimontare dal bologna fa 2 a 2 sul finale freuler gioca non fa assist non segna 6 freuler da te mi aspetto qualcosa in più però e ti metto sempre ma tu non segni mai se non ti metto e segni locatelli locatelli l'ho preso perché era uno dei migliori centrocampisti nonostante fosse al sassuolo il sassuolo sta facendo bene ma l'unico giocatore che non mi rende come vorrei è locatelli locatelli prende 5 5 e mezzo da almeno 10 partite fisso fisso con giallo senza giallo sta giornata ha preso 6 ha preso giallo ha preso 5 e mezzo e mi ha scombustato tutti i piani è anche sua la colpa ma più degli juventini che sua per questa sconfitta poi barella inter inter vince ma barella non prende né 6 e mezzo senza infame e senza lode 6 si prende il suo 6 secco ma adesso arriva il pezzo forte del centrocampio signore e signori un altro milanista che salva che prova ha provato durante la partita a salvare questo fantacalcio l'ho fatto c'ha la no glue c'ha la no glue che prende 8 prende 8 fa 2 assist e segna il rigore voto finale 13 eccolo un altro 13 ma adesso andiamo all'attacco in attacco c'è la carenza orsolini rientrava ma si era detto che giocava solo 30 minuti eppure entra e fa anche assist ma io non l'ho schierato e vabbè poi c'ho pandev ma pandev non gioca titolare da un'era geologica titolare voto 7 perché prende un giallo ma fa assist e vabbè eh ma non era prevedibile pandev non l'abbiamo mai messo titolare e poi c'avevi gli ultimi due morata e simi simi non si sa per quale motivo il crotone vince ma lui prende 5 e mezzo non segna e non fa assist malissimo morata pure colpevole di questa sconfitta insieme a scesni perché la juve perde 3 a 0 lui prende 5 e mezzo morata io t'ho comprato t'ho speso pure poco ma tu non puoi farmi queste prestazioni da 5 e mezzo io mi aspetto da te qualcosa in più contro la fiorentina poi ti sei mangiato certe occasioni non puoi finire a fare 5 e mezzo una partita un assist io da te me lo aspetto sei la juve l'attaccante più prolifico ma non mi sento neanche di bestemmiarti conto per una partita che è sbagliato ma è già la seconda queste non sono prestazioni non sono prestazioni degne e così perdiamo al fantacalcio così si perde perché tutto il resto funziona centro campo difesa porta non ne parliamo perché anche in porta avevamo due scelte o mettevi cesni contro la fiorentina ha preso 3 pere non si è capito perché sono arrabbiato con la juve e poi anche voler mettere silvestri silvestri ha preso due preso comunque più discesni perché ha preso 4 e mezzo quindi ci andavi comunque a guadagnare su silvestri quindi anche qua abbiamo sbagliato portiere però però l'attacco è quello che deve muovere una squadra verso il primo posto e non funziona a noi non funziona l'attacco perché non si può perdere così perché non mi sento io di dire la squadra non ha funzionato la squadra ha funzionato perché quelli che sono stati mandati in campo hanno giocato bene che poi in panchina tenevi orzolino che fa assist tenevi pandevo che fa assist ma non te l'aspetti proprio orzolino ha fatto assist per un giapponese che noi teniamo in panchina lo mettiamo quando lo mettiamo prende 5 e mezzo prende 5 no stavolta non l'abbiamo messo perché abbiamo detto vabbè contro l'atalanta è inutile proprio mettiamo direttamente i bagnes to miglia su segna il gol del 2 a 1 signori risultati non sono per niente piacevole confido che si vada meglio le prossime settimane grazie si innanzitutto auguri innanzitutto auguri poi dobbiamo fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi togliamo come sempre cartella mano perché cartacante giacomino sono c'è poco da parlare c'è poco da parlare stiamo godendo stiamo godendo c'è poco da parlare la nostra squadra ha fatto una grandissima prestazione unica nota dolente purtroppo dobbiamo dirlo che vi lasagna 4 e mezzo però il resto il resto è andato bene consiglio 4 e mezzo perché ha subito due reti ferrari 6 e mezzo delict 5 e mezzo uscito per infortunio niente di grave rassicuriamo i nostri tifosi smalling subentra fa assist 7 e mezzo perisic 5 ma lo facciamo andare bene per questa giornata bene tu grandissimo centrocampista settima reti e 13 presenze con anche un assist grande acquisto da parte della società 10 ventacur 5 e mezzo perere a 5 mezzo zeko 10 grande e poi luiz muriel 13 e mezzo doppietta ma di cosa stiamo parlando signori sì 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 mi do un contegno si è stata una grande prestazione collettiva abbiamo vinto di misura giusto 32 abbiamo portato a casa quattro punti in due partite contro la prima e la seconda della classifica andiamo alla pausa natalizia abbastanza soddisfatti abbastanza soddisfatti anche se anche se siamo comunque ultimi con 15 punti ma abbiamo ridotto la classifica e l'obiettivo nostro dichiarato è il terzo posto perché sappiamo che ci sono squadre migliori di noi ma possiamo farcela possiamo farcela sì la società farà le dovute i dovuti ragionamenti a tavolino e speriamo sono fiducioso che si muoveranno bene sul mercato durante la sessione invernale sì ci tengo a fare gli auguri anche al mio avversario che purtroppo mi ha preso il riscobbo prego prego grazie avvocato grazie a tutti